Il primo obiettivo di professura è ritornare a allenare. Sicuramente mi piacerebbe mettermi la prova in Italia, visto che non ho mai avuto questa possibilità. Sicuramente mi piacerebbe mettermi alla prova però iniziando all'inizio stagione, quindi facendomi una squadra come voglio io. Io sono sempre subentrato, quindi sono sempre dovuto arrangiare con squadre costruite da altri e poi dopo ho modellato con la mia metodologia, con la mia tattica, però ho sempre ricevuto in eredità una squadra costruita da altri. Mi piacerebbe questo. Sicuramente se ci fosse una richiesta dall'estero non ci penserei due volte, andrei subito perché mi piacciono queste sfide e quindi il mio obiettivo è quello di tornare a allenare.